L'atmosfera del Natale irrompe al Policlinico Santa Maria Lescotti regalando una mattinata speciale al Dipartimento Materno Infantile grazie alla visita dei rappresentanti dei supermercati PAM Panorama che hanno portato doni, regali e sorrisi ai piccoli pazienti ricoverati all'azienda ospedaliero universitaria senese. Presenti all'iniziativa il Direttore Generale Valtteri Giovannini insieme a tutti i direttori delle unità operative, i professionisti e le coordinatrici infermieristiche del Dipartimento Materno Infantile. Ascoltiamo il Professore Mario Messina, Direttore del Dipartimento Materno Infantile. I bambini che sono ricoverati, ci sono bambini medici, ci sono bambini chirurgici ma comunque quando si entra in un'istanza, si dà un regalo voi vi accorgete che c'è sempre un sorriso di un bambino ed è questa la cosa più bella. A rappresentare PAM Panorama il Direttore del Punto Vendita di Siena Fabrizio Becherini e il Direttore Generale di PAM Panorama Toscana Mario Morrone che ascoltiamo. È un evento che non riguarda solo Siena, anche se è storico a Siena perché non è la prima volta che lo facciamo ma riguarda anche vari ospedali d'Italia e quindi dimostra ancora una volta l'attenzione e l'attaccamento che PAM Panorama ha per questo tipo di iniziative. e quindi ripeto, questi sono momenti dove è importante il messaggio che viene dato è importante soprattutto essere vicini ai pazienti di questa struttura che sono la priorità assoluta. I bimbi sono la cosa che viene prima di tutto.